Non puoi provarci? Non sai più usare lo scudo? Inutile! Non puoi provarci? Non puoi provarci? Non puoi provarci la scudo! Non sei in forma! Sì! 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 Dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno. Perché ci sono due letti? Fuori dalla mia casa! Ho trovato un punto debole, eh? Il nascondito! Lento e vecchio dove vivete veramente. Allora, vuoi riprovare? Tu parli troppo. Ti piace parlare? Bellissimo. Magari lo farà chi stai nascondendo in casa. Chi è? Chi temi che possa trovare? Chi è uno dei tempi. Chi è? Chi 끼 cito sui! Chi ci è pi regarderò? E' una noia mortale. Cosa nascondi? Non ho tempo per questo. 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 Mi servivano solo delle risposte. Ma tu hai fatto l'eroe. Non mi importa che mi farai. Io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà. Ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Lo hai visto con i tuoi occhi? Non puoi ferirmi. Non puoi ferirmi. Niente può farlo. Questa lotta è inutile. I tuoi sforzi sono inutili. Non doveva andare così. Non puoi vincere. Io non sento niente. Ma tu sì. Eppure continui a provare. Io non sono mio fratello. Se tu mi avessi dato tutto che volevo, non sarebbe finita così. Eppure continui a provare. Eppure continui a provare. Eppure continui a provare. Non puoi sparci. Orsi! Orsi! Non sento ospiente! No! Niente! Miserabile! Non sento ospiente! Non sento ospiente! Ti eliminerò! Non puoi battermi! Orsi! Orsi! Non sento ospiente! Orsi! Non sento ospiente! Orsi! 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 mi facessi finalmente sentire qualcosa. Ma non puoi. Chi era? Mi conosceva. Conosceva il mio passato. Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo. Faye, cosa devo fare? Nostro figlio non è pronto per portare le ceneri sulla montagna. E nemmeno io non so come fare tutto questo senza di te. Ma non possiamo stare qui. Ragazzo. Sentivo dei rumori. Io credevo... Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Vieni.